amici sportivi amici scommettitori bentornati sul canale benvenuti in questo nuovo video allora la programmazione provvisoria va avanti per chi non lo sapesse è da qualche giorno che sto facendo video in questo modo avremo comunque di sicuro l'occasione di rivederci al completo sia con faccia che con audio per il momento andiamo avanti in questa modalità provvisoria che ci porta alla bollettona del weekend ho selezionato alcune partite per voi dal quale dalle quali potete fare una bella schedina e cercare di portare a casa dei soldini per questo fine settimana allora il nostro viaggio comincia in germania in bundesliga dove i campioni tedeschi del bayern monaco andranno in casa del verder brema a giocare una partita pre champions league allora secondo me comunque non ci sono grandi problemi per il bayern a vincere questa partita deve comunque difendere il primo posto in campionato e credo che un 2 più over 2 e mezzo potrebbe essere un'ottima un'ottima quota perché dato a 1 e 50 e quindi di solito il bayern vince sempre con qualche gol di scarto difficilmente vince 1 a 0 e quindi potrebbe essere una quota molto probabile ci spostiamo in grecia dove i primi in classifica dell'olimpiacos giocano contro l'ael larissa in casa dell'ael larissa allora l'olimpiacos ieri ha perso 3 a 1 e in europa league contro l'arsenal in casa però il campionato greco lascia un pochino a desiderare la squadra che va a incontrare si trova addirittura all'ultimo posto l'olimpiacos è primo e direi che una quota di 1 e 50 per la vittoria di quest'ultima è assolutamente golosa e quindi la inseriamo leister sheffield adesso andiamo in premier league dove leister non sta affrontando proprio un grandissimo momento ha vinto l'ultima partita per 2 a 1 in casa del brighton però veniva da alcune alcune sconfitte alcuni risultati che comunque le hanno permesso di mantenere il terzo posto in classifica terzo posto che dovrà difendere contro lo sheffield che si trova ultimo in premier league ha vinto una delle ultime cinque partite e comunque è una squadra che solitamente i risultati li fa in casa tranne una piccola parentesi dove è riuscito a vincere addirittura l'ol traffico contro il manchester però tutto sommato anche qui l'uno è offerto 1 e 50 direi che non possiamo lasciarcelo sfuggire lo inseriamo nella schedina andiamo in spagna dove i primi in classifica dell'atletico madrid incontrano il getafe atletico madrid che sembra essersi un attimino ripreso ha pareggiato il derby con real poi ha vinto contro l'atletico bilbao in casa per 2 a 1 adesso adesso ha deve mantenere deve mantenere il primato si trova più 6 in questo momento sulla seconda che è il barcellona e quindi qua non so se andrà a vincere perché il getafe non è proprio un campo facilissimo però l'x2 offerto a 1 e 30 anche qui secondo me è una bella quota per una doppia chance della prima in classifica la inseriamo chiudiamo la nostra schedina con tondela sporting lisbona quindi ci spostiamo restiamo sempre nella penisola iberica ma siamo in portogallo tondela sporting lisbona direi che il 2 è offerto a 1 e 40 può assolutamente andare a completare questa schedina sommando tutte le quote moltiplicandole esce fuori una quota 6 il mio consiglio è quello di giocare se potete 10 euro se non ce li avete giocate nei 5 va bene lo stesso una pizza esce comunque fuori con 10 euro ci metteremo in tasca 50 euro puliti va bene ragazzi come sempre giocate se secondo le vostre possibilità e non esagerate mai quello che vi consiglio quello che vi consiglio è sempre nelle altre schedine quando andate a vedere i pronostici della serie a dell'europa league della champions league quella di scegliere tre partite ma siccome vogliamo fare un bollettone un pochino anche per divertirci è quello di non esagerare mai va bene ragazzi io vi saluto vi invito a iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto vi auguro di vincere tanti soldi ciao ciao a tutti